buongiorno signori e benvenuti nella quarta numero 20 del nostro vero strano platino. Allora, nella quarta parte, vi ho fatto capire che ci sono la lastra. Bene, adesso possiamo andare verso le pepoli, le popole, le pepoli, e qui possiamo andare a causa dell'inferno e qui. Allora, se vi va andare prima, si va ai pepoli per fare una commissione. Allora, ah, ho sbagliato il fatto di fare una commissione. Bene, voglio prendere la scuola, di accendere, mangiare le box, e voglio prendere per questa pagina il abiluppo, e che si rivolterà a loro, perché abiluppo, sarebbe la forza, sarebbe l'imbaro, e metti, anche dopo un parere, forza, e poi anche lunga parte, adesso è che l'imbaro, guarda, carino, aspettato, che è migliore. Allora, lei è stata carocca, io mi chiedo di leggere, uno che è forza, uno che ha forza lo survivor, non è che di ala, perciò, lo che, pure per questa pagina, bene. per questa pagina, vediamo che l'imbaro è in grave, capace, forza, riscaccio, forza, forza, scanto, perciò, attivazione, bene, possiamo fare, facciamo, volo, andremo a un memorandum, assoluto, bene, bene, in quella parte, in quella, lundicesima, l'ultima partita, avevo, avuto bisogno di andare, per questo, quando la potete partirei, il qui ora, esso, avuto, questa partita, avrà una rossa, nuova, molto utile, partitele одну, quel paio, avuto, avuto, non capire la mostra, però, ho dimenticato, però la faccio vedere, adesso, all'arossa, devo imparare, il buono, e il, non buono, non il shock, si, andai sciocco ecco andai sciocco via l'imbaro e caccio caccio mosso bene finalmente la mosso quelli che vogliono andare anche con il pulmino per un carburante che vogliono prendere molto, molto aperto qua, inizio adesso ci vediamo Axqorupi ci vediamo un po' sciocco guardate dall'uomo provando un po' sciocco backup a off dai, per questo non posso poterli muovere composta cosa vabbè, gioco il pianocchio e infatti una cinghilla cacao bene, bronzer il pianocchio il pianocchio è la cacao il pianocchio è la cacao no no se non c'ho un pulmirendi la cacao e ve lo ho 44 qui 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 che qui un pulmirendi per un accontore no non ci c'è un pulmire ecco vedete come di fuoco questa sarà la grotta che cliccherà nelle ecoli bene dovete forza che vedrà indispensabile scendere di qua scendere la scratch a prima ma io ho bisogno di questo faccio questa roccia ah ecco vedete la scusa parte avremmo acquistato con i 4 cittadini cosa mi ha usato con i 4 cittadini bravo che stai sperando sarebbero più utili infatti andiamo con tutto qua qua qualche altro no dai qua però non 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 internet internet come una buffa da capo poi veniamo la nostra strada questo c'è da qui facilissimo poi veniamo la nostra strada scendiamo e metto ora blocco uno uso la posta faccio meno meno di tre posti uso l'esercizio e lo faccio anche un'interna e lo faccio e lo faccio bene quando metto prima qua sta la roccia ancora non lo apriamo adesso l'acqua giriamo l'acqua 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 ora la posso la posso la 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 l'acqua la 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 l'estero sarà al livello 44 bene, poi troveremo un animatore con un snowbird troveremo un abbono giù facciamo apriamo un mister mind io colpo il surf, cambio giusto a vedere cambio bene cycle mando mando il surf giusto non va più nenne uso la giusta per sbaglio la giusta per sbaglio la giusta per sbaglio la giusta per sbaglio la bike mando la cartiglia il freddo 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 che non può e il freddo il freddo il freddo andiamo e incontreremo Marzia la tormella aumenta un po' di più ELECTIBOX la posizione di ELECTIBOX con un suono più di nuova cosa come la direzione KO la direzione KO 3.043 MARGOMAR la scoccatura la scoccatura la scoccatura la scoccatura e la scoccatura in realtà va a farlo bene e poi prendiamo tutti gli incetti con lmg e finire a fare così ecco vedete il problema con le andritte le andritte le andritte un tipo di ammiglia con la tormella un po' di ammiglia un po' di ammiglia un po' di ammiglia un po' di ammiglia per la nocce ci servirà un po' di ammiglia un po' di ammiglia un po' di ammiglia Passo con l'artigio un palo sogni, due ragazzini, non ne capavo, non trovo le forne, un mio rapido, un mio rapido contrario, non ne capavo, non ne capavo, il mio papà è stato un bel frattano e l'altro con un omba shock un omba shock un buon denghi per iolo ecco il programma che ci sarà l'uovo buon denghi un po con leone 45 la garbuzza un po' di vista un minatore un po' di santa caesco via via un po' di santa caesco un po' di santa caesco questo poi ho il cambio qui le metto un po' di santa caesco e c'è l'uovo e poi e noi mettiamo un po' di santa caesco si chi con un 好 ovvero la prima bene con leone 45 cerchiamo di imparare furbo a fuoco e aiutiamo la santa caesco me lo faccio veramente se mi dico che se non mi sono più alto me lo spagnolo e me lo premo stile come me ne sta la roccia guarda che e poi... ...dicolo la banca la giuria e poi si può essere il telefono e poi mi mani troppo al final ben geri che vanno a deboli dove viene aperto la palestra qua le pal... ah qui c'era bene la parte è finita e nella prossima parte avremo un gioco meno per quadro ciao alla prossima